Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft Questi oggi siamo in un nuovo video tutorial Vi farò vedere come aprire una porta a combinazione ragazzi Quindi godetevi il video e buona visione Bene ragazzi, innanzitutto dobbiamo costruire una parete che sarà alta 3 e larga 6 fino ad arrivare alla porta In realtà è larga 8 in tutto, compresa la porta e quest'altro pezzo di parete E quindi dobbiamo poi fare così per evidenziare dove costruire la nostra combinazione Quindi mettiamo questi due blocchi differenti, c'è quest'altro blocchi differenti in terracotta E poi qui io metto dell'andesite sia qui che qui sotto Benissimo ragazzi Dopo aver appunto segnato la zona dove andremo a mettere la nostra combinazione Dobbiamo appunto mettere delle leve in questo modo con dei cartelli con i numeri 1, 1, 4, 2, 5 e 3, 6 Qua dietro andiamo a scegliere appunto dove mettere le torce di redstone Che segnano appunto la nostra combinazione Io in questo caso ho scelto l'1 e il 2 e la combinazione il 6 Quindi dobbiamo attivare così e in questo modo si aprirà la porta Bene, qui inizieremo il circuito i redstone che è quello importante ovviamente Dobbiamo mettere due blocchi di redstone in questa maniera Poi dobbiamo creare qui una impalcatura per mettere dell'altra redstone che andremo a collegare in questo modo Qui sotto scenderemo con la redstone in questa maniera Perfetto, qui rompiamo il blocco E qui scaviamo di due Fino ad arrivare alla porta Alla porta scaviamo in questa maniera Così e così Benissimo Continuiamo con la redstone fino a questo punto Qui mettiamo un repeater E qui sotto una torcia Avete visto che ha fatto questo apri e chiudi la porta? Benissimo Una volta che poi andremo a fare la combinazione che saranno 1, 2 e 6 La porta si aprirà Ovviamente se facciamo le altre combinazioni non funziona Tipo in questa maniera In questa maniera Cioè non si apre la porta Adesso scopriremo se si aprirà con 1, 2 e 6 Ok ragazzi Avete visto la combinazione era giusta 1, 2 e 6 per aprire la porta Per questo episodio è tutto ragazzi Spero vi sia piaciuto Ma ancora non è finito il video Perché mancano i saluti quest'oggi E andrò a salutare alcuni di voi Siete davvero in tanti quest'oggi E vi saluterò tutti Se volete essere salutati mi raccomando Scrivetemi su Instagram E seguitemi Allora saluto Livia Giuseppe Migliaccio Alessandro Di Mezzo Biagio La Provitera Francesco Strazzeri Davide Cristian Nigro Misael Puleo Antonio Nocerino E The Wolf Gamer 592 Vi voglio bene Voglio bene tutti Ragazzi Mi raccomando Seguitemi su Instagram E se volete essere salutati Mandatemi un messaggio E inoltre Vi invito ad iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto E lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto E commentate qui sotto Fatemi sapere la vostra Da Clarder95 è tutto Noi ci vediamo ad un prossimo episodio Ciao ciao ragazzi